Siamo a Milanello dove oggi Rino Gattuso ha tenuto la consueta tradizionale conferenza stampa di vigilia. I temi soprattutto toccati riguardano la condizione della squadra. Gattuso si augura contro la Juventus di ritrovare quella scintilla, quella elettricità che la squadra sembra aver perso dopo il gol di Vessino e la sconfitta nel derby. Un Rino Gattuso che dice che questa partita arriva al momento giusto perché una partita del genere è quella ideale per far ritrovare quella brillantezza, quell'autostima, quella sicurezza perse nelle recenti partite. Abbiamo ieri intitolato un nostro video, arriva la confusione e scappano i risultati. Bene, Rino Gattuso ha tenuto a ritornare su questo tema dell'eventuale discussione, degli eventuali contrasti a livello professionale con Leonardo e Maldini e ha smentito tutto questo. Tutti stiamo remando dalla stessa parte, l'obiettivo è di portare il Milan in Champions League. Riguardo alla classifica, dice Becchiaro, ci sono molti risultati alterni, soprattutto adesso ha preso un po' di continuità l'Atalanta, però è un Milan che deve ripartire da questo risultato perché con un risultato positivo contro la Juventus potremmo veramente ritrovare i motivi persi nelle recenti partite. Un Milan che non gli è piaciuto per la lunghezza del campo occupato contro l'Udinese, mentre con la Sampdoria nel secondo tempo qualcosa si era visto sul piano della pericolosità. Contro l'Udinese certamente è stato deludente, dice Gattuso, questa fase tecnica e tattica della partita. Contro la Juventus il Milan ha proposto, parliamo prima della formazione della Juventus che dovrebbe lasciare in panchina Chiellini al suo posto Rugani e dovrebbe recuperare Spinazzola in questo momento in ballottaggio con Alexandro come in ballottaggio Kane con Dybala, mentre Betancourt potrebbe prendere il posto di Pjanic. Dunque una Juventus che pensa già all'Ajax, Rino Gattuso lo esclude nel modo più categorico. La Juventus vuole chiudere il campionato, vincesse farebbe un passo avanti quindi mi aspetto una Juventus totalmente motivata. Un Milan dunque che affronta la squadra bianconera conscio che si tratta di una parita difficilissima ma nello stesso tempo affascinante. Con quale formazione? Beh, i quattro dietro, stavo dicendo, sono i soliti, no. I quattro dietro sì ma il portiere cambia, Reina in porta dopo l'infortunio di Donnarumma con sulle fasce Calabria Riccardo Rodriguez e Musacchio Romagnoli centrali. A centrocampo in attacco cinque sono sicuri, Bakayoko che sì, Suso Pionte che c'è la Noglu che sembrava avesse accusato un problemino ma invece si è allenato regolarmente. Come li metterà e chi sarà il sesto? Beh, allora noi pensiamo più a un Chessi, Bakayoko, Cialanoglu a centrocampo, Suso Pionte e davanti Borini. L'alternativa è ancora Biglia a centrocampo con Chessi e con Bakayoko e là davanti dunque Cialanoglu con Suso Pionte. Ma io opterei più per la prima ipotesi perché il Milan con Bakayoko e Cialanoglu può contrastare meglio il centrocampo Juventino secondo quello che si suppone, pensi, Rino Gattuso. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegratti.